Se seguite un po' i mercati finanziari, sapete bene che in questo mese c'è stata un po' di maretta. E vabbè, vado dicendo da sempre che la volatilità fa parte dei mercati, motivo per cui speculare a breve termine è rischioso. Tuttavia, mi fa veramente specie quando ricevo commenti o mail del tipo, oggi l'indice è sceso, oppure da alcuni giorni l'indice scende, cosa devo fare? Sono domande a cui non riesco a rispondere, perché alla domanda oggi l'indice è sceso, cosa devo fare? A me viene da dire oggi ha piovuto, cosa devo fare? Quello che voglio dire è che la domanda è sbagliata. Il punto non è oggi l'indice è sceso, cosa devo fare? Il punto è, ha senso che voi sappiate ogni giorno che cosa fa l'indice? In questo video facciamo un po' di chiarezza su una cosa che sembra facile, ma so che non lo è, e cioè quanto spesso guardare il proprio portafoglio? Se vi piace il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Io sono Alessandro Lazzaro e vi parlo di economia e finanza in modo chiaro, semplice e completo. Cominciamo subito da ciò che si dice sempre di non fare, ma che in tanti fanno? Guardare il portafoglio ogni giorno. Avete pianificato il vostro portafoglio a lungo termine? Avete preso i vostri etf e cosa fate? Guardate come stanno andando. È vero o no birbanti? Lo so che lo fate. Allora diciamolo senza mezzi termini una volta per tutte. Guardare il portafoglio ogni giorno non serve a niente. O uno fa trading, ma è un'altra cosa. Ma se uno investe a lungo termine, controllare ogni giorno come sta andando il portafoglio è una cosa che non ha senso. Pensatela così. È come se voi comprate una casa, dopodiché tornate ogni giorno dall'agente immobiliare che ve l'ha venduta e gli chiedete a quanto si vende oggi? Quello vi guarda con due occhi così, ma scusa, l'hai appena comprata, hai detto che la vuoi tenere per anni? Perché lungo termine vuol dire anni. Che senso ha che mi chiedi il prezzo ogni giorno? Ecco, quando investite in azioni per il lungo termine è la stessa cosa. Cioè, voi comprate pezzi di aziende reali, non finte, reali, che fanno cose perché pensate che nel tempo vi rendano bene. Che senso ha sapere ogni giorno a quanto si vendono? Nessuno. Secondo tempismo decisamente sbagliato. Guardare il portafoglio ogni settimana. Vi do un trucco per farvi capire quanto sia ridicolo. Aprite un giornale finanziario al venerdì e troverete sempre uno o più articoli sulla settimana dei mercati. Leggete il nome del giornalista e immaginatevi questo povero Cristo al venerdì pomeriggio che vuole andare a casa e che con poca fatica mette su un articolo su quello che è successo in borsa e fila a casa. Perché questo è. Parlare di borsa al passato non serve a niente. Quindi che senso ha perderci tempo ogni settimana per uno che investe a lungo termine? Ancora una volta, nessuno. Terzo tempismo. Guardare il portafoglio una volta al mese. Il bello di guardare una volta al mese è che sembra come che si possano già capire dei trend nei mercati. E quindi escono degli articoli del tipo questa strategia ha funzionato questo mese. Questa strategia che funzionava da 50 anni adesso non funziona più perché questo mese è andata male. Io vi dico questo. Se voi andate su immobiliare.it o altri siti di annunci immobiliari, ogni mese viene pubblicato l'andamento del prezzo degli immobili per una certa città, sia vendita che affitto. Domanda. Se siete proprietari di immobili, siete mai andati a controllare questi valori? Magari sono scesi questo mese e vi conviene vendere casa prima che crolli tutto. Ma per favore. Il quarto tempismo è sicuramente il più amato dagli intermediari finanziari e da tutti quelli che girano intorno alle aziende quotate. Guardare il portafoglio ogni tre mesi. Ogni tre mesi è importante perché ci sono le trimestrali, quindi le azioni possono andare su, giù, chi lo sa. Allora, guardare il portafoglio nel senso di controllare come sta andando ogni tre mesi ancora una volta non ha senso. Perché? Perché giudicare il risultato aziendale nel giro di tre mesi è assolutamente inutile. Chi lavora in una grande azienda sa che per portare avanti un progetto ci vuole del tempo. Già un anno e poco, figuriamoci tre mesi. Ogni tre mesi però può aver senso non tanto per guardare il portafoglio, ma per controllare che tutto sia a posto. Ogni tre mesi vengono pagati dividendi, ad esempio. C'è l'imposta di bolo da pagare. Quindi controllare che sia tutto in ordine da questo punto di vista può avere senso. Anzi, direi che è buona amministrazione. Quinto tempismo. Guardare il portafoglio ogni sei mesi. Allora, vale la regola che ho detto prima. Se avete, ad esempio, titoli di Stato o fondi titoli di Stato, in genere pagano cedola semestrale. Quindi ci sta a controllare che da un punto di vista amministrativo sia tutto a posto. Ma per quanto riguarda il portafoglio in sé, potete dare una sbirciata anche se non serve a molto. Fra tre e sei mesi cambia poco. Può aver senso per coloro che vogliono seguire una strategia di ribilanciamento. Ogni sei mesi ci può stare. Sesto tempismo. E ormai ci siamo. Guardare il portafoglio una volta all'anno. Non lo fa nessuno, ma per un investitore di lungo termine, una volta all'anno sarebbe il tempismo giusto per guardare il portafoglio e fare dei ragionamenti. Il bello di approcciare il portafoglio una volta all'anno è che approcciate il portafoglio come proprietari. È come se andaste all'assemblea degli azionisti del vostro fondo di investimento. E vedete tutto in un altro modo. Ad esempio, una cosa bellissima, secondo me, è che andate a guardare il portafoglio sapendo già in un certo senso cosa trovate. Ad esempio, al 31 dicembre 2021 era chiaro che c'erano dei numeri bellissimi, non c'era bisogno che me lo dicesse il mercato. Così come al 31 dicembre 2020 gli investimenti europei erano così così e gli investimenti immobiliari pure. Non guardate il portafoglio passivamente, facendovi dire dal mercato se va bene o va male, ma fatevi già un'idea e la confermate andando a vedere il portafoglio. In questo modo vi aiutate anche a fare delle stime sul futuro. Quando ho visto i numeri del 2021 ho pensato, cavolo, sarà dura fare gli stessi numeri l'anno prossimo. Probabilmente faremo sotto la media nel 2022. Fate dei ragionamenti e magari ribilanciate. L'America è andata molto bene, forse anche troppo. Europa è emergenti non un granché, però sono apprezzati meglio. Ci siamo? L'importante è che voi abbiate un approccio proattivo da investitori di lungo termine e non un approccio passivo da speculatori di breve termine che si fanno dire dal mercato come sta andando l'investimento. Che vogliate controllare una volta ogni tre mesi, sei mesi o un anno, sempre farlo proattivamente e mai, mai guardare il portafoglio ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, che non serve a niente. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Se siete interessati a capire come potete imparare a costruire un portafoglio per il lungo termine, andate a vedere la pagina del mio videocorso Accumulare Capitale, il videocorso dedicato a chi vuole imparare e investire in autonomia. Trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono Alessandro Lazzaro e ci vediamo nel prossimo video.